Il Carinse GTX Lady, questo prodotto qui fa parte della collezione Cold Weather Boots. Il 2011 è stato dedicato proprio alle donne, infatti diputano 6 modelli in questa linea con la nuova suola ALS2. Questa suola qui è indicata per tutte le attività invernali e è stata studiata specificatamente per la donna. Questa tomaia è in scamosciato e ha la fodera, il Gore-Tex e parte lana. Parte lana, 80% lana e 20% poliestere. Poi ha un bellissimo collarino, il pie, che regala comfort e calore al piede. Questi scarpe lì hanno una condizione climatica all'interno del piede straordinaria, proprio grazie a queste caratteristiche. Questa scarpe qui è la più bassa delle tre, è stata prodotta in tre misure diverse e in tre colori diversi. Ecco qui un altro modello della linea Cold Weather Boots. Questa scarpe si chiama Nabucco GTX, è prodotto sia da uomo che da donna. Questa scarpe qui è indicata per tutte le attività invernali, come lo snowshoeing, il dog trekking o anche per camminate sulla neve. Questa scarpe qui è prodotta in Nabucco, ha la fodera in Gore-Tex e parte lana, quindi 80% lana e 20% poliestere. Ha una condizione climatica e uterna, ottima, che mantiene caldo il piede anche sulle giornate più fredde. La suola C3 è una suola con un poliuretano e pertanto garantisce maggiore aderenza su superfici bagnate o negose. Questi inserti in tessuto qui che si può vedere funzionano come shock absorber e pertanto garantiscono e aumentano il grid fino al 32% su qualsiasi superficie bagnata rispetto ad altri materiali. Queste scarpe sono prodotte in Europa, quindi garantiamo una produzione made in Europe con una qualità e un fit veramente ottimo. E anche qui possiamo dire che la Loba è l'unica azienda al mondo nel settore di calzature e trekking che può vantare di avere la certificazione ISO 9001.